ben trovati a tutti nuova puntata di parola al direttore sulle fonti tv naturalmente dalla redazione di libero e naturalmente con vittorio feltri direttore bentrovato ciao ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori a tutti coloro che ci seguono questa puntata diventa decisamente importante perché è l'ultima del 2021 e allora mi serve fare un po anche un bilancio con te se sei d'accordo partendo naturalmente da quelle che sono le notizie che insomma ci accompagnano in questa ultima fase dell'anno che però permettimi subito la battuta sono le stesse con le quali abbiamo iniziato l'anno in primis sì però si parla continuamente di covid partiamo da qui perché altra battuta e poi ti do la parola chiuderemo quest'anno il 2021 come l'abbiamo iniziato fondamentalmente parlando di covid no direi di no anche perché le vaccinazioni sono andate avanti e quindi anche le vittime sono sinceramente diminuite poi ci sono ancora i novax che si sono incattiviti e che hanno sempre più energie da spendere e questo può infastidire ma soprattutto ci preoccupiamo per loro che vanno incontro a dei rischi che potrebbero tranquillamente evitare ma diciamo che anche gli ospedali facciamo l'esempio della lombardia la lombardia che era stata criticata spramente perché all'inizio fu presa in contropiede di fronte al virus e adesso è sicuramente la regione dove le cose vanno meglio quindi noi siamo sempre abituati a vedere il peggio perché il peggio è più luminescente rispetto al meglio però dobbiamo tenere conto che invece anche l'italia come paese sta andando molto bene anche dal punto di vista industriale c'è stato un aumento del pil che secondo i dati pari al 6,3% che è tantissimo è vero che eravamo un po' crollati d'altronde con l'epidemia qualsiasi economia ne soffre adesso noi abbiamo poi la conferma che il nostro paese è quello che in europa ha il contante più più elevato depositato in banca quindi voglio dire se tutti questi soldi gli italiani se li hanno da qualche parte li vanno preso è vero che c'è anche l'evasione fiscale però l'evasione fiscale non viene combattuta questa è la verità però i soldi ci sono i soldi ce ne sono parecchi ed è il motivo per cui cercheranno di fare una patrimoniale ma mi auguro che evitino questa schifezza adesso ci arriviamo anche alle decisioni politiche peraltro si è parlato proprio dell'italia come locomotiva d'europa quindi in questo momento effettivamente l'italia è vista a livello previsionale come già hai detto tu ma anche dal punto di vista della cura della prevenzione del virus l'italia è un paese pilota non possiamo sempre autodenigrarci che è lo sport più praticato in italia l'autodenigrazione però esseriamo noi non stiamo assolutamente male dobbiamo dobbiamo solo lavorare un po vediamo se sei d'accordo gioco di parole sul lavoro nel senso che proprio nelle ultime ore si è un po acceso il riflettore sulla disoccupazione italiana soprattutto quella giovanile secondo te insomma non bisogna lavorare un po per dare una mano ai giovani perché ancora effettivamente il tasso di disoccupazione giovanile molto alto e chiaramente guardando al futuro se vogliamo essere locomotiva soprattutto d'europa insomma lì dobbiamo agire ma lì sarà anche più difficile perché purtroppo la nostra scuola è scollegata dal mondo del lavoro inoltre i disoccupati sono quelli che non sanno fare un mestiere perché se tu non sai fare un mestiere che lavoro vuoi trovare se non quello di manovale ma i manovali sappiamo che riprendiamo dagli immigrati e quindi ci sono disoccupati ma non sono disoccupati perché la nostra economia non tira molte aziende ricercano personale ma cercano personale che sappia fare qualche cosa di specifico siccome nessuno ormai sa fare più niente idraulici non ci sono più non ci sono più elettricisti non ci sono più i saldatori non ci sono più i camionisti non ci sono più e quindi se uno non riesce neanche a prendere la patente non può fare il camionista però se i ragazzi non si mettono in testa che per trovare lavoro bisogna saper fare un mestiere ma se non lo sai fate non trovi e non stai lì a prendere il reddito di cittadinanza che secondo me è un'ingiustizia sociale ma poi sono uscite un sacco di truffe sul reddito di cittadinanza peraltro leggevo che hanno cominciato a fare più controlli che invece sono stati un po carenti negli ultimi anni e infatti il risultato sembra quasi che non ci sia un incrocio di dati e questo non permetta di effettivamente stanare i cosiddetti furbetti che però furbetti è una parola già fin troppo è molto carina direi appunto appunto per non dire altro speriamo allora se restando ancora sto buttando l'occhio sul su libero staremo ancora in emergenza fino a fine marzo è normale non è che siamo siamo già a dicembre quindi mancano pochi giorni alla fine dell'anno non possiamo pensare in gennaio di essere fuori da questa situazione tra l'altro il virus ce lo otterremo per molto tempo fino a quando non diventerà come l'influenza che sarà combattuto con una iniezione all'anno come facciamo appunto con l'influenza domanda proprio così secca ma secondo te visto anche tutte le proteste lo ricordavi anche tu inizio chiacchierata dei novax che sono fatti anche abbastanza aggressivi per difendere la loro posizione servirebbe l'obbligatorietà del vaccino per tutti perché poi per certe categorie ovviamente già stato fatto per i sanitari per i professori però io credo che l'obbligo della vaccinazione taglierebbe la testa al toro perché tutti quanti per lavorare per fare vita sociale dovrebbero fare il vaccino e credo che questo sarebbe la soluzione però non capisco come mai invece non sia ancora proceduto in questo senso io lo trovo sbagliato e naturalmente i novax dicono che sarebbe anticostituzionale obbligare qualcuno a farsi una cura dicono anticostituzionale perché io ho la libertà di scelta allora io vorrei ricordare a questi signori che fino a qualche anno fa c'era il servizio di leva militare obbligatorio non potevo io scegliere di non fare militare anche perché la diciamo l'obiezione di coscienza è arrivata più tardi ma quando io ho fatto il militare non esisteva obiezione di coscienza sono dovuto andare via interrompere i miei studi il mio lavoro eccetera e obbligato altrimenti mi avrebbero messo letteralmente in galera ma non solo non solo quando sono arrivato in caserma dopo una ventina di giorni tutto il nostro plotone è stato portato in infermeria ci hanno messo a tutti a torso nudo e ci hanno fatto delle iniezioni qui nel petto nelle tette che non abbiamo però abbiamo fatto questa iniezione molti venivano per la paura altri avevano poi un febrone da cavallo ma mica ci hanno chiesto se volevano o non volevano ce l'hanno fatta di forza e nessuno ha parlato di anticostituzionalità oggi perché cosa è cambiato rispetto a 30 anni fa niente quindi c'è una una posizione illogica quella direttore ti faccio un obiezione nel senso perché poi il dibattito è diventato talmente ampio potrebbero rispondere a questa a questo racconto che è interessante perché comunque molti non lo sanno esatto quindi assolutamente vita vissuta che i tempi sono cambiati che una volta la costituzione ok i tempi sono cambiati ma questo cambiano sempre i tempi non è che è la prima volta ma sai che parlano di queste decisioni come di decisioni che venivano prese per esempio nel periodo nazista no si parla molto ma scusa nel 1964 il nazismo era già stato morto certo assolutamente non è che io ho fatto il militare nel secolo scorso sì anzi nel secolo scorso ormai sì però voglio dire la costituzione è ancora quella non è stata cambiata assolutamente però insomma i fatti sono cambiati e perché adesso non si può fare una vaccinazione obbligatoria che peraltro mi risulta che tutti quanti noi quando avevamo bambini si hanno fatto una serie di vaccinazioni tutte obbligatorie se se volevamo andare a scuola all'asilo non ci accettavano assolutamente beh esistono dei vaccini obbligatori oggi esistono allora più o meno cosa cambia bene adesso cambiamo argomento restiamo però ancora un istante sul discorso della proroga dello stato di emergenza ma leghiamo questo aspetto a una notizia politica ossia l'elezione del nuovo presidente della repubblica c'è già chi sostiene che appunto la proroga dello stato di emergenza fino a fine marzo sia intanto una tutela da parte del governo ma sia anche un modo per blindare draghi perché è uno dei favoriti al col cioè insomma si si parla di lui come ovviamente nuovo presidente la repubblica tanto ti chiedo come vedi draghi al presidente come presidente della repubblica e poi se c'è un legame credo che sia impossibile non mettere draghi che è l'unico che è in grado non soltanto di fare il presidente della repubblica ma di continuare indirettamente anche a fare il presidente del consiglio perché io ricordo a tutti che qualora draghi venga eletto capo dello stato toccherebbe poi a lui nominare il nuovo premier e secondo te draghi è così cretino da nominare uno che non gli obbedisce è evidente che mette un uomo suo per cui garantisce la continuità anche nel governo non vedo un'altra possibilità perché si la cosa di berlusconi è anche divertente no questo signore di 85 anni ha avuto una vita meravigliosa e burascosa il fatto che abbia ancora voglia di fare una cosa del genere suscita in me anche ammirazioni questa è una cosa però è altamente improbabile che berlusconi venga nominato presidente è votato come presidente della repubblica anche per una ragione di salute che berlusconi ha 85 anni e ha un ospedale qui a milano che san raffaele dove ogni ogni settimana ogni 15 giorni va qualche giorno per farsi per fare un tagliando si 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 per i controlli ma se lui va a quirinale il san raffaele dov'è ogni volta che deve fare una visita deve prendere l'aereo venire a milano è una cosa è una cosa che non sta nel cielo né in terra no poi effettivamente draghi al quirinale premier ma nomi però non se ne possono fare di eventuali nuovi premier perché sarà non sappiamo quali sono gli uomini e infatti per quello dico non sapendo ci sarà qualcuno di cui si fida quindi ci sarebbe quindi continuità quindi è l'unica è ma appunto ma secondo te ci sarà con convergenza su questo su questo ma chi è che si rifiuta di votare draghi l'importante è che non si sciolga il parlamento certo perché ai parlamentari non ne affega niente dell'italia interessano la loro tasca e quindi se tu sciogli le camere perdono l'indenità parlamentare perdono anche la pensioncina per cui a loro preme questo con draghi loro si assicurano continuità anche economica e quindi ma perché dovrebbero non essere d'accordo se cascasse adesso tutto sarebbe anche abbastanza precario per il paese visto che siamo in un momento del paese non frega niente a nessun politico io faccio finta di crederci ancora anche se vediamo i fatti certo certo assolutamente sì e insomma vedremo senti natale visto che bilancio di fine anno come come natale che dicono già sarà abbastanza insomma costoso per le famiglie hai visto le bollette visto insomma i costi che salgono tu come vedi questo c'è la riuscita mi sembra che le cifre giustifichino tutto questo all'anno certo se uno è povero se anche gli aumenti di 10 euro una bolletta si incazza questo è del tutto evidente però il questo non è vero che è un paese pieno di poveri ci sono i poveri ci sono sempre stati e ci saranno sempre persino gesù diceva i poveri ci saranno sempre non lo dico io proprio autorevole di me però insomma anche di anche la povertà la povertà andrebbe contrastata in modo diverso per esempio a milano milano è piena di clochard i clochard sono tantissimi che dormono d'inverno col freddo che fa alla diaccio sotto i portici molti muoiono di freddo e di stenti e nessuno gli aiuta non solo non prendono neanche il reddito di cittadinanza chissà perché ai veri poveri non danno il reddito di cittadinanza allora ma che tipo di politica stiamo facendo da deficienti certo poi su questo insomma con tutte le strutture che sono uscite e persone che ovviamente poi la cronaca proprio di questo periodo case popolari qui a milano ci sono stati dei servizi anche televisivi negli ultimi giorni in queste case piove non funzionano i caloriferi non funziona questo non funziona quello ma abbiamo il comune che spende un sacco di soldi per fare le piste ciclabili che fra l'altro rovinano la circolazione la rendono impossibile e nessuno che va a sistemarsi dei casi popolari per far vivere la gente in modo civile assolutamente sì sono sempre delle iniziative che poi arrivano da associazioni che però ovviamente poi arrivano fino a un certo punto perché chiaramente non possono fare tutto da soli senti direttore a parte covid eccetera per cosa verrà ricordato questo 2021 secondo te ti viene in mente qualcosa verrà ricordato perché la squadra di calcio nazionale ha vinto gli europei la gente ricorda queste cose è stato un anno di successi sportivi gli europei e le olimpiadi abbiamo conquistato una serie di medaglie eccetera e quando succedono queste cose significa che il paese tutto sommato è in salute perché un paese che non è in salute non vince venti medaglie d'oro beh certo è un po' stata una sorta di riscatto però con delle basi evidentemente no perché vuol dire che abbiamo potuto abbiamo potuto esprimere gente di questo tipo e cosa come inizierà secondo te il 2022 so che qui dobbiamo fare un po' nostradamus ma insomma è per chiudere non cambia niente le cose gli italiani come tutti l'umanità è così vede sempre il peggio lo dicevo prima quindi dirà le cose sono peggiate non sono più i bei vecchi tempi andati e tutte queste stupiraggini tant'è vero che i romani più duemila anni fa dicevano ma la tempora currunt cioè corrono dei tempi cattivi no lo dicevano già duemila anni fa continuiamo a dire la stessa cosa vuol dire che l'umanità non cambia mai vede sempre il peggio no quando infatti tu stai bene di salute non pensi alla salute alla salute ci pensi quando l'hai persa certo no però si continua a parlare del peggio del peggio del peggio e così non ci godiamo neanche la vita no assolutamente è un po dai chiudiamo anche facendo visto che vogliamo sempre abbiamo parlato tanto di covid anche quando forse non era necessario nel senso che c'erano altre notizie che effettivamente potevano essere più importanti anche noi anche la comunicazione in generale insomma un po toppato ecco infatti stavo dicendo facciamo una sorta di mea culpa anche se poi magari ciascuno di noi ha cercato di non seguire quest'ondata abbiamo però diciamo delle attenuanti perché noi è vero che diamo le informazioni ma non è che ce le inventiamo le attingiamo presso le cosiddette fonti ufficiali certo se le fonti ufficiali ci danno dalle sole poi è evidente che noi riportiamo esatto e poi va beh il 2021 per chiudere sarà ricordato anche come l'anno in cui io e te non ci siamo fidanzati ancora e questo è veramente irritante lo so lo so questo però possiamo rimandare all'anno nuovo con un impegno serio vediamo insomma di solito scritto no no però diciamo fine anno si fanno i buoni propositi e questo diciamo che lo mettiamo tra tutti i buoni propositi che abbiamo gli altri non li sveliamo al primo posto è il primo posto va bene allora poi vedremo la lista allora grazie vittorio feltri grazie naturalmente per questa chiacchierata assolutamente altrettanto e alla prossima puntata grazie